Oggi abbiamo presentato per conto dell'associazione Zero Waste Sicilia una denuncia dettagliata ma soprattutto con tutta una serie di documentazione allegata relativa alla gestione sia commissariale sia istituzionale della discarica di Motta Sant'Anastasia Mister Bianco Valanghe d'Inverno in quanto effettivamente ci sono degli elementi sicuramente da un punto di vista amministrativo molto particolare abbiamo chiesto proprio alla procura di Catania di verificare la sussistenza del reato di abuso in atti d'ufficio L'8 marzo in occasione della conferenza dei servizi per il quale il Dipartimento Energia e Rifiuti ha convocato le parti in causa, cioè i comuni di Motta e Mister Bianco nel quale si vuole avallare il rinnovo di questa autorizzazione illegittima ma certamente noi metteremo in campo un'azione di protesta, un sit-in organizzato autonomamente dei comitati no discarica e non ci formeremo Abbiamo deciso di denunciare il Presidente della Regione Crocetta dopo l'ennesima proroga concessa alla discarica OICOS una discarica illegale che avrebbe dovuto chiudere già nel 2014 Ottilio